Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con mattino 6, giovedì 5 novembre, nuova rassegna stampa con la lettura dei nostri quotidiani. Partiamo dal Santo del Giorno che viene ricordato e venerato dalla Chiesa Cattolica, si tratta di San Guido Maria Conforti, un uomo che ha dedicato tanto nella sua vita agli altri. Nasce il 30 marzo del 1865 a Casalora di Ravadese, nel Parmense, e l'ottavo dei dieci figli di Rinaldo e Antonia Adorni. Dopo aver studiato dei fratelli delle scuole cristiane e superato le perplessità del papà, non troppo felice per la sua scelta, Guido entra nel seminario a 17 anni, i primi sintomi di una malattia che potrebbe sbarrargli la strada verso il sacerdosio, ma il rettore, Monsignor Andrea Ferrari, lo rincuora e lo guida fino all'ordinazione sacerdotare. In seminario il giovane Conforti legge una biografia di San Francesco Saverio, rimane affascinato dalle sue imprese missionarie. Inizia dunque una vita di grandi virtù e di cristianità per Guido Maria Conforti che nel 1902 a 37 anni è nominato arcivescovo di Ravenna, ma sale sulla cattedra di Santa Pollinare e resta un solo anno costretto al ritiro per l'acquirsi della malattia, un breve periodo. Poi Pio X lo nomina quadiutore del vescovo di Parma. Tante le opere, le virtù di Monsignor Conforti che trova nella missione proprio ottimi motivi per essere un eccellente pastore della sua diocesi. Tornato dalla Cina dopo l'ennesimo viaggio, Monsignor Conforti riprende la sua attività, ma il suo fisico tanto provato, pur sorretto da un'indomita volontà, cede irrimediabilmente. Il 5 novembre del 1931, accompagnato dai confratelli e confortato dal sacramento degli infermi, si addormenta nel Signore. Nel 1995 Papa Giovanni Paolo II lo proclama beato, mentre Benedetto XVI il 23 ottobre del 2011 lo cinge dell'Aureola dei Santi. San Benedetto, dunque, Guido Maria Conforti che vedete nella foto viene ricordato dalla Chiesa Cattolica nella giornata di oggi. Noi apriamo la nostra rassegna stampa con le prime pagine dei giornali. Partiamo dal centro, l'edizione di Pescara per vedere insieme quali sono i titoli principali dell'edizione del quotidiano d'Abruzzo che si apre con una notizia di giudiziaria. Vedete a tutta pagina il titolo. Bancarotta all'Aca, nove indagati, chiusa l'inchiesta a Pescara, perdite per 120 milioni e spese folli. Poi vedete la foto notizia, lo storico bar di Corso Umberto a Pescara, l'Eccelsior costretto a smantellare il gazebo dopo 14 anni. Poi nelle cronache, denuncia della CGL, invalidità civile, c'è la pensione ma è già morto. Maiella Morrone, arrivano i primi soldi per i lavoratori, è stato pagato uno stipendio e poi pensionata all'otto si gioca la data e fa un colpo da 210 mila euro. Questa fortunata pensionata che ha portato a casa un bel po' di soldi. E poi un'altra notizia che riguarda anche in questo caso la cronaca giudiziaria perché è stato arrestato il re dell'acqua, il patron della Santa Croce, a cui è stata contestata una frode da 13 milioni di euro. Poi il calcio, il Pescara che dopo la sconfitta di Novara guarda la gara di sabato prossimo allo stadio adriatico con la Ternana con il tecnico Massimo Oddo che adesso punta su Verre e Mandragora. Lasciamo la prima pagina del centro edizione di Pescara, andiamo a vedere, lo faremo tra qualche istante, la prima pagina dell'edizione di Chieti del quotidiano Il Centro Chieti-Lanciano-Vasto in particolare per seguire insieme e anche in questo caso vedere insieme quali sono i titoli della prima pagina. In questo caso si parla di sanità, spatoccole, chirurgia a Pescara, il decreto Lorenzina, corpa reparti per gli acuti a Chieti, la riabilitazione. E poi andiamo nella Frentania a Treglio, no al Sanzificio di Treglio, questo territorio ha diritto di respirare la protesta davanti al Tribunale di Lanciano. Vedete i cittadini di Treglio con bandiere e striccioni per protestare. E poi vedete in basso torna anche sull'edizione di Chieti la notizia dell'arresto del patron dell'acqua Santa Croce. Poi le cronache, una bella notizia che arriva da Chieti perché Simone è salvo dopo otto mesi di coma. Ricorderete la vicenda del giornalista cinquantenne pestato in strada dopo otto mesi di coma. È stato davvero in gravi condizioni. Simone è uscito dal coma e ora le sue condizioni fortunatamente sono sensibilmente migliorate. Poi vedete la notizia della pensionata che vince all'otto 210 mila euro e a vasto pista ciclabile. A rischio i fondi per 2 milioni di euro. Lasciamo l'edizione di Chieti del centro. Andiamo a vedere quella di Teramo. Poi concluderemo con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. E poi passeremo al messaggero. Inizieremo a dare uno sguardo ai titoli, alle pagine di cronaca nazionale. Ancora un secondo per andare a vedere la prima pagina del centro. Edizione di Teramo. Eccola qui. Teramo lavoro assolto. Catarra. Non ci furono abuso. Truffa e falso. Due anni a Cretarola per peculato. È stato dunque assolto l'ex presidente della provincia di Teramo. Poi vedete la foto, il lutto, l'addio a D'Agostino, politico e sindacalista, ex presidente della provincia di Teramo, Ernino D'Agostino, che è scomparso all'età di 55 anni. Il cordoglio unanime di amici, colleghi e anche avversari politici che hanno riconosciuto a D'Agostino proprio la sua grande capacità politica, anche la sua grande onestà. E poi vedete, arrestato il re dell'acqua, si torna sempre sulla vicenda della Santa Croce. E poi in alto ci sono anche cronache che riguardano l'Italia. Il decreto sui conti, intesa sul Salva Regioni, ossigeno per l'Abruzzo. Dunque una notizia che riguarda anche la nostra regione. Poi l'omicidio di Elena Ceste. Siamo in Piemonte. Il marito è stato condannato in primo grado a 30 anni. Chiudiamo con la prima pagina del centro. L'edizione, come dicevamo, di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Poi passeremo al messaggero. Poi, come sempre, avremo nell'ultima parte della nostra rassegna stampa un'ampia pagina dedicata allo sport. Nell'edizione dell'Aquila il titolo a tutta pagina riguarda proprio l'arresto del patrone della Santa Croce, Colella, contestata, come dicevamo, una frode da 13 milioni di euro. E poi le cronache. Il 19 a Roma. Grandi rischi. Mobilitazione silenziosa il prossimo 19 novembre. E poi Autoblu patteggia l'autista del sindaco. Siamo ad Avezzano. All'Aquila scoperte truffe con affitti concordati. Due denunce. Ancora una notizia, questa volta di cronaca. Muore dopo l'investimento. L'Aquila caccia all'autopirata che ha travolto la 62N. E poi una notizia di sport, perché ieri c'è stata la Coppa Italia di Lega Pro. Si sono giocate diverse gare. L'Aquila è stata eliminata dall'Ancona, in terra marchigiana, solo ai supplementari. Allora lasciamo il centro. Possiamo passare al messaggero. iniziere a vedere la prima pagina e poi le pagine interne del Quotidiano di Roma. Prima pagina che riguarda la vicenda dei corvi in Vaticano. Ancora qualche secondo e vedremo la pagina del messaggero inquadrata. Tra l'altro ci sono diverse polemiche proprio su quello che sta accadendo a città del Vaticano con questa polemica che è tutta interna proprio alla Santa Sede con queste lettere e foto ricatti in Vaticano. Vedete il titolo. Sottratti altri documenti. Sciarò qui e il marito coinvolti in un'indagine per estorsione. Nel mirino anche le spese dell'era Bertone e i sei cardinali della fronda. Anti Bergoglio dunque polemiche e diciamo situazione che è tutt'altro che risolta. Poi trattativa Stato-mafia. Assolto Mannino, vittima di PM ostinati. E poi la vicenda dell'aereo esploso è stata una bomba dall'intelligence USA accuse all'ISIS. Andiamo a vedere le pagine interne. Iniziamo da pagina 2. Processo Stato-mafia. Assolto Mannino, perseguitato dai PM. E la fine di un incubo. L'accusa aveva chiesto 9 anni per aver avviato i negoziati. La decisione dei giudici pesa ora sul procedimento Mancino dell'Utri. Quell'inchiesta è infinita sulla presunta trattativa. E poi in basso i magistrati di Caltanissetta vogliono sentire l'ex Presidente della Repubblica, Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ho perso un pezzo di vita pagato la mia famiglia. Parla proprio l'ex Ministro Calogero Mannino, lo sfogo dell'ex più volte Ministro e leader della sinistra DC in Sicilia. Non ce l'ho con la Procura ma con alcuni PM. Uno mi insegue. Da 20 anni vedete nella foto Calogero Mannino. Proseguiamo. Si parla di un'altra vicenda giudiziaria. Da buzzi a carminati il mondo Nimezzo. Da oggi alla sbarra perché parte oggi il processo di Roma Capitale via le udienze per Mafia Capitale. Questo è il processo. Molti politici tra i 46 imputati nel mirino appalti e gare pilotate, ricatti e corruzione. Vedete nella foto a sinistra Massimo Carminati. Il nodo dell'associazione mafiosa. Così gli avvocati daranno battaglia. La linea dei difensori. Qui niente minacce. Mafia? Ma se non ci sono nemmeno i morti. Questa è la teoria difensiva di alcuni dei legali degli indagati in questo processo. La Procura di Roma punta a dimostrare la notevole forza di intimidazione del sodalizio criminale. Proseguiamo. Corvi in Vaticano. Sparite anche foto e lettere riservate. Ombre sulla PR. si tratta della Shakhi e il marito che sono coinvolti in un'inchiesta della Procura di Terni. Intrusione informatica ed estorsione. Vedete la donna nella foto. Sotto la lente anche la scomparsa della lista segreta con 120 conti or intestati a laici e ancora attivi. Nel mirino degli inquirenti della Santa Sede ci sono le spese, anche le spese dell'era Bertone e sei cardinali della Fronda a Francesco. Un filone di inchiesta riguarda la gestione di beni vaticani. Nattino dice ho sempre operato nel pieno rispetto delle regole. E poi c'è una dichiarazione di Monsignor Becciu che dice nessun clima da lunghi coltelli. Sicuramente vicenda questa che è destinata a creare altre polemiche. Dallo scandalo offerte ai ricatti il Papa registrato costi sballati. Nei libri in uscita su Vatilix 2 anche Papa Francesco. Ci sono trappole nei contratti. Le pressioni per la gestione dell'obolo di San Pietro. Un affare da 40 milioni. Andiamo ancora avanti. In basso si parla sempre di questa vicenda. Case di lusso ai porporati e il pontefice vive in 50 metri quadri. Nell'appartamento del governatore ci sono sette bagni. Il ministro degli esteri abita in 800 metri quadri. Mentre il Papa, come molti sapranno, abita in un piccolo appartamento che si trova a Santa Marta. Più che un appartamento è una stanza con annesso ingresso. Siamo a pagina 8. Svolta al bambin Gesù, ribaltone di Parolin. Rinnovata la fondazione del più importante ospedale di Roma, uno dei più importanti d'Italia. al presidente Enoch affiancati i nomi di alto livello, da Tarantola a De Bortoli. Il cardinale dice che sarà sempre più un'opera di carità. Vedete i nomi dei nuovi dirigenti che faranno parte proprio del consiglio di amministrazione della fondazione del bambin Gesù. C'è anche Anna Maria Tarantola, ex presidente della RAI. Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera. Tanto per fare due nomi. Proseguiamo. Renzi, Dream Team, test per il candidato sindaco. Siamo alla politica nazionale. Il premier vede tronca il neocommissario del Comune di Roma. Nella squadra per il giubileo l'ipotesi di inserire chi dovrà correre. Tra i nomi in pole position anche Causi e Sabella. Gabrielli nomina i sei subcommissari. Quindi Matteo apre a modifiche sull'Italicum. A sinistra i veleni di Mineo. Sa che io so, dice l'ex direttore di Night News, sempre critico sulla politica del suo partito, ovvero il Partito Democratico. E poi c'è, vedete, il libro, il nuovo libro di Bruno Vespa, Donne d'Italia, libro che esce oggi. Il ministro Madia, la nuova pubblica amministrazione e lo Stato introvabile. Questi alcuni degli argomenti. Sul libro del giornalista abruzzese Bruno Vespa. Regioni, armistizio con il governo verso un accordo sui fondi alla sanità. Al via due tavoli su costi standard. Spesa farmaceutica. Sidi Chiamparino alle misure. Renzi, basta demagogia. Nei giorni scorsi c'era stata una polemica forte tra Sergio Chiamparino, presidente della conferenza delle regioni, e il premier statale. L'Aran convoca i sindacati vicini all'intesa su quattro settori. E poi dall'Unione Europea ok alla flessibilità sui migranti. Padoan difende la manovra. Cala il debito. Buone notizie per il nostro paese. Poi si parla di sanità. In quest'altra pagina del messaggero si allontana l'aumento dei ticket. Arriva il decreto salva governatori. Le regioni metteranno a punto piani di rientro per i singoli ospedali in deficit. Apertura dell'esecutivo su 1 miliardo e 300 milioni di risorse per la spesa extrasanitaria. E poi stabilità, ipotesi zero tasi anche per le case in uso ai parenti. Proseguiamo. Siamo alla vicenda dell'incidente aereo sul Sinai. La verità degli Stati Uniti. Una bomba dell'ISIS. I servizi americani accusano i controlli egiziani. Un ordigno nascosto in una valigia grazie ad un impiegato complice. Inizialmente si era pensato ad un incidente. Ora l'ipotesi più accreditata è quella proprio di un attentato dell'ISIS. Droni armati. La richiesta italiana dagli Stati Uniti. Semaforo verde. E il secondo paese dopo la Gran Bretagna. Con l'ok del Pentagono. Ancora su questa vicenda la doppia vendetta jadaista a colpire insieme Putin e al-Sisi. Putin è presidente russo e al-Sisi primo ministro egiziano. Il califo vuol far pagare alla Russia l'intervento in Siria. Al fianco di Assad. Israele avverte una pericolosa saldatura tra Hamas e ISIS. Il caos nell'area del Sinai dove c'è stato appunto questo incidente, questa esplosione in volo dell'aereo. E siamo in Romania dove cade il governo per il rogo in discoteca. Venerdì scorso 32 morti per un incendio. Folla esasperata. 25.000 in piazza Bucarest. Il premier Victor Ponta si dimette. Proseguiamo ancora le cronache dall'Italia. L'omicidio di Elena Ceste, abbiamo visto anche il richiamo in prima pagina, per il marito Michele. Trent'anni di carcere, la condanna per l'assassinio della moglie, l'occultamento del cadavere. Lui grida all'errore giudiziario, una tragica fatalità. I genitori della donna sono scappati a piangere, ora dovranno spiegarlo ai quattro nipoti. Tra l'altro, vicenda questa che è fatto molto discutere con il ritrovamento del corpo di Elena Ceste dopo diversi mesi dalla sua scomparsa. Siamo alle pagine dell'economia. Telecom al 10%, la quota massima di Niel. E poi in basso, Moody's declassa il rating. Cade l'azione Volkswagen, dunque ci sono problemi anche in borsa per la multinazionale dell'auto. Poi si parla di banche, intesa San Paolo, ultimi ritocchi. Ai poteri dell'amministratore delegato nel CdA inglese. E poi buone notizie per alcune banche, tra cui Imi e Fideuram. Nove mesi in gran velocità. E poi salvataggi bancari. Tocca al Governo. La Commissione Finanze del Senato ha recepito i cambiamenti suggeriti dalla Consob. Banca Italia tra le proposte di modifica e rinvio al gennaio 2019 del privilegio alle società nella gerarchia dei creditori. Lasciamo il messaggero. Andiamo a vedere le pagine nazionali del centro. Anche se in questo caso si parla della vicenda del re dell'acqua della Santa Croce che è stato arrestato per una frode da 13 milioni di euro. Guai per Colella, amministratore delegato della Santa Croce di Canistro. La finanza sequestra abitazioni e boschi. La società. Faremo chiarezza. Un palazzinaro con il fiuto per gli affari. E poi Di Paolo. Un'altra mazzata dopo i danni dell'alluvione. Il sindaco di Canistro è preoccupato per il futuro del marchio. Deve tanti soldi anche a noi. Prodotti 100 milioni di bottiglie ranno. Erano più di 300 milioni nel 2007. Vedete in basso nel calcio anche con Pescari Avezzano. Rifornisce Biancazzurri ed è sponsor sulle maglie dei marsicani. Paris, presidente dell'Avezzano. Per noi non cambia nulla. Ma su questa vicenda possiamo andare a vedere a questo punto il servizio. Che fa un po' il punto della situazione. Arrestato il legale rappresentante della società Santa Croce e sequestrati 13 milioni di euro. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno eseguito stamane un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Avezzano su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di Camillo Colella, legale rappresentante della società Acqua Santa Croce di Canistro, nota a livello nazionale. Sono inoltre stati sequestrati beni immobili e risorse finanziarie nella disponibilità dell'indagato per circa 13 milioni di euro. L'indagine è stata avviata a seguito di una verifica fiscale, eseguita dai finanziari del capoluogo abruzzese nel 2011, nei confronti della società che ha portato, dopo complesse ed articolate investigazioni economico-finanziarie, alla scoperta di rilevanti importi per circa 9 milioni di euro sottratti al pagamento delle imposte. Le attività d'innagine sono state stese all'accertamento di tutte le posizioni debitorie della società. Tale attività, svolta dal nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila, congiuntamente al personale dell'Agenzia delle Entrate, ha portato alla luce un'ulteriore materia imponibile che ha di fatto fatto lievitare le imposte dovute ma non versate a circa 13 milioni di euro. importo questo sottratto al versamento delle imposte attraverso insidiose ed artificiose manovre di dissimulazione, prontamente intercettate e compiutamente ricostruite dai finanzieri, unitamente ai funzionari dell'Agenzia Fiscale. Le manovre dissimulatorie, attentamente pianificate e puntualmente realizzate dall'indagato, con il fine preciso di rendere inefficaci le procedure di riscossione equattiva promosse da Equitalia. Prima di concentrarci sul meteo, leggiamo qualche altro titolo dalle pagine del centro, decreto salva regioni, c'è anche l'Abruzzo che dell'esecutivo per evitare interventi della Corte dei Conti, il confronto sulla sanità, i tagli restano, il fondo a 111 miliardi, Padoan manovra per la crescita e poi avanti, politica, nuovi abbandoni nel PD, non è partito di sinistra, da Torre Galli e Follino annunciano un nuovo gruppo parlamentare con SEL. Vatilix, atto secondo, il Vaticano archivia corvi e traditori e Bergoglio disse ai cardinali i conti non sono in ordine e come abbiamo visto anche dal messaggero al Bambin Gesù, De Bortoli e Tarantola, dunque nuovi nomi, nomi importanti e di peso nel direttivo dell'ospedale. Mafia capitale alla sbarra Campidoglio, parte civile, istanza del Comune di Roma con la richiesta di danni, in tutto 46 gli imputati, in aula non ci saranno Buzzi e Carminati ma i politici accusati di tangenti e poi Renzi vede tronca decisi, subcommissari in alto, Palermo assolto, l'ex ministro DC Calogero Mannino. E dunque possiamo, prima di concentrarci sul meteo, l'ultima pagina di Cronaca Nazionale, omicidio a Elena Ceste, il marito condannato a 30 anni di carcere. Siamo arrivati alle pagine dell'Abruzzo, ma sono le 7.22 e dunque dobbiamo aprire la finestra sul meteo come ogni mattina, lo facciamo con il nostro Giovanni De Palma. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, siamo a novembre, tra poco meno di due mesi è Natale, però c'è l'estate di San Martino nel nostro paese e anche della nostra regione, temperature miti, bel tempo, direi quasi caldo per la gioia di coloro che soffrono il freddo. Esatto Paolo, arriva l'estate di San Martino, hai detto bene, perché la situazione è in miglioramento, ma attenzione però perché come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, nel corso delle prossime ore è previsto un aumento dell'instabilità a partire dalla Marsica e dall'Aquilano perché giungerà un corpo nuvoloso di origine atlantica che favorirà un aumento dell'instabilità, soprattutto sulla Marsica, nell'Aquilano e sulle zone montuose con possibili rovesci localmente a carattere temporalesco, quasi simili a quelli che si possono verificare in tarda estate o inizio autunno, insomma una situazione un po' particolare questa con dei rovesci che però nel pomeriggio potrebbero localmente estendersi verso le zone pedemontane e alto collinari, anche quelle che si affacciano sul versante adriatico della nostra regione, quindi un disturbo atteso nelle prossime ore però poi come detto poc'anzi insomma tornerà il del tempo, lo farà a partire già da stasera ma soprattutto nel corso del fine settimana perché è prevista la rimonta di una vasta area di alta pressione proveniente dal meriterraneo occidentale che invaderà dapprima la penisola iberica, la Francia, l'Europa centrale e poi si adagerà sulla nostra penisola soprattutto nel fine settimana e nei primi giorni della prossima settimana. Area di alta pressione che determinerà anche un graduale aumento delle temperature ma soprattutto sulle zone collinari, alto collinari e montuose dove si avrà un clima decisamente mite ma la presenza di questa figura di alta pressione ben strutturata a tutte le quote darà luogo comunque alle inversioni termiche di conseguenza è lecito attendersi la formazione di foschie dense e banchi di nebbia nelle pianure e nelle valli soprattutto durante le ore più fredde della giornata. Paolo questa è la situazione insomma il quadro che emerge osservando gli ultimi aggiornamenti quindi dopo il disturbo atteso nelle prossime ore in particolar modo sul settore occidentale della nostra regione sulle zone montuose ma localmente nel pomeriggio anche sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico la tendenza verso un graduale miglioramento deciso ancora più deciso nel fine settimana e nei primi giorni della prossima settimana. Paolo. Giovanni brevemente prima di salutarci quanto durerà quest'estate di San Martino? Abbiamo letto da più parti che potrebbe questo bel tempo allungarsi fin oltre la metà di novembre così anche se è sempre difficile come tu ci dici fare previsioni oltre le 48 ore. Eh sì Paolo è sempre difficile andare oltre possiamo dire alla luce dei dati attuali a nostra disposizione che comunque questa situazione di tempo stabile con l'alta pressione ben strutturata a tutte le quote durerà almeno fino alla giornata di mercoledì poi sembra proseguire la situazione verso un graduale cedimento di questa struttura di alta pressione ma poi è lecito attendersi comunque un peggioramento perché insomma le correnti atlantiche le masse d'aria fredda iniziano ad avvicinarsi un po' al continente dopo e probabilmente insomma eh potranno eh potranno la traiettoria potrebbe cambiare e raggiungere anche il Mediterraneo ma comunque si tratta di teorie e di ipotesi che ovviamente confermeremo nel caso nei prossimi giorni Paolo. Perfetto grazie grazie a Giovanni De Palma con te appuntamento come sempre domani intorno alle 7.20 eh nel corso di mattino 6 buona giornata e buon lavoro. Grazie Paolo una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo Giovanni De Palma ma per saperne di più gli strumenti ormai li conoscete il sito www.abruzzometeo.org con aggiornamenti in tempo reale proprio eh sulle previsioni del tempo anche con i live che arrivano dalle nostre province e poi eh c'è anche la pagina Facebook il social network per interagire con il nostro meteorologo. Lasciamo la pagina del eh meteo torniamo al centro eh per vedere le pagine della cronaca d'Abruzzo fondi alle imprese si parla di economia bando da 8 milioni per chi ha investito domande a partire dal 7 novembre sulla piattaforma informatica della regione Lolli dice vicepresidente della regione Abruzzo occasione da sfruttare vediamo in merito il servizio. Nuovi incentivi per la micro piccola e media impresa abruzzese ad annunciarlo Giovanni Lolli vicepresidente della regione con delega allo sviluppo economico si tratta di un bando rivolto all'innovazione tecnologica di processo e organizzativa le imprese verranno agevolate da un contributo in conto capitale sulla spesa effettuata fino al 50 per cento per un minimo di 50 mila euro di investimento e un massimo di 200 mila. Le spese effettuate sono calcolate dal primo gennaio 2015. La somma messa a disposizione dalla regione è di 8 milioni di euro. Di tutte le attività che queste imprese hanno fatto a partire da gennaio di quest'anno quindi quelle anche già fatte fino alla fine dell'anno che possono essere diciamo presentate come innovazione è un rimborso noi rimborsiamo fino al 50 per cento in conto capitale quindi soldi veri cash diciamo è un bando naturalmente debbono rispondere ci sono alcune premialità riguardo i giovani le donne ma insomma è un bando di 8 milioni quindi in dei minimi stiamo parlando di tanti soldi che possono diciamo realizzare obiettivi di tante imprese. Le tipologie di spesa comprendono macchinari attrezzature software e hardware servizi di consulenza gestionale tecnologica acquisto di diritti di brevetto licenze know-how e perizie tecniche. È giusto fare così perché noi chi stiamo premiando? Stiamo premiando degli eroi cioè quelli che in questi anni di crisi in questi anni di accesso al credito che è diventato per le piccole imprese drammatiche molta gente è sopravvissuta e riuscita nonostante tutto spesso ricorrendo anzi quasi sempre ricorrendo a proprie le risorse personali a mandare avanti la sua azienda. Ecco noi distribuiamo 8 milioni di euro in Abruzzo a questo sistema di imprese credo sia una cosa molto positiva e molto utile. Queste le dichiarazioni del vicepresidente della regione Giovanni Lolli noi ci fermiamo per qualche istante poi torneremo per la seconda parte di mattino 6. Seconda parte di mattino 6 siamo alle pagine del centro cronaca di Pescara cronaca giudiziaria in questo caso perdite per 120 milioni e spese folli 9 indagati l'ACA sotto accusa la procura chiude l'inchiesta sul dissesto finanziario dell'azienda dell'acqua contestati i reati di bancarotta e truffa conti truccati per cene rimborsi e premi. Arriva il via libera all'accompagnamento ma è morto a marzo invalidità civile riconosciuta ad un anziano che aveva chiesto di essere visitato a luglio del 2014 la CGL dice tempi troppo lunghi e poi ancora Pescara l'associazione Pescara mi piace dice si chieda aiuto all'esercito contro la criminalità. Proseguiamo sempre dalle pagine del centro cronaca di Pescara via il gazebo del bar eccelsio dopo 14 anni e abusivo smantellata la struttura di fronte allo storico bar di Corso Umberto zona di pregio vincolata da una delibera del 2013 le regole delle aree di pregio vietati vasi e cartelli fuori dai gazebo e in via Cesare Battisti ormai nuova culla della movida pescarese in arrivo la vigilanza privata. Proseguiamo cantierabili 54 milioni per i lavoratori per i lavori scusate anti alluvione via del governo al progetto annunciato nei mesi scorsi dal governatore D'Alfonso per mettere in sicurezza i centri dell'area metropolitana attraversati dal fiume Pescara ancora cronaca dal capoluogo adriatico si parla di sanità il sindacato diritti violati alla ASD volantinaggio e petizione dell'FSI in ospedale nonostante il permesso negato vedete la foto della manifestazione di ieri Pescara via Caravaggio bonificata oasi dei senza tetto intervento della polizia ferroviaria per sgomberare le masserizie che i disperati depositano nell'area di lavaggio dei treni dopo aver dormito nei vagoni vedete alcune foto e poi in basso discariche abusive tra le case comitato di cittadini della Tiburtina segnala il degrado in via Lago di Borgiano ancora avanti siamo alla cronaca sempre da pescare dall'area metropolitana gioca la data all'otto e vince 210 mila euro pensionata in festa Francavilla colpo alla ricevitoria Cipollone con una quaterna il titolare dice è una cliente abituale che usa gli stessi numeri da anni dunque sarebbe stata già individuata questa fortunata pensionata Francavilla servizio civile in comune al via i primi sette ragazzi e poi Maiella percorsi per disabili sui sentieri a letto Manoppello parte il progetto del comune del parco per recuperare e valorizzare i tolos proseguiamo siamo alla pagina di Montesilvano pochi incassi e troppe spese così la farmacia è collassata in dieci anni l'ente gestito dall'azienda speciale ha perso 720 mila euro ecco i motivi all'origine del buco per i prossimi nove anni sarà gestito da un privato volontari davanti alle scuole per la vigilanza il via alle domande e poi stangata mensa ora i calcoli sono sbagliati la denuncia dei genitori troppi disagi con il nuovo sistema informatizzato il comune dicono i genitori controlli ancora avanti furti a ripetizione il movimento 5 stelle siamo il discount dei ladri Montesilvano i grillini contestano l'amministrazione Maragno sulla sicurezza città fuori controllo subito sgravi sulle tasse a chi mette le telecamere e poi a spoltore pensionato pescarese muore il giorno dopo l'incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri Montesilvano arrivano i pannelli per i treni le ferrovie assicurano sia le barriere per abbattere i rumori e poi sempre a Montesilvano a spoltore a pianella forze armate festa con gli alunni ieri 4 novembre festa delle forze armate con cerimonie in tutte le province della nostra regione siamo ancora alle pagine della provincia di Pescara Penne Popoli Altaval Pescara furti nell'area vestina la rabbia dei residenti emergenza e criminalità gli abitanti di Civitella Casanova si mobilitano e invocano maggiori controlli di polizia il comune promette l'arrivo delle telecamere a Loreto mille firme contro i ladri e poi a Penne cambiando argomento liceo artistico di Penne via libera ai lavori e poi a Torre dei Passeri 20 famiglie faranno i test per l'Istat siamo alla pagina di Chieti del centro rivoluzione nella sanità privata clinica spatoccole chirurgia pescare il decreto Lorenzini impone di trasferire accorpare le specialità per i malati acuti a Chieti potenziata la riabilitazione e poi la bella notizia di cui vi dicevamo in precedenza Simone fuori pericolo dopo otto mesi di coma il giornalista pestato sono migliorate le sue condizioni e dopo tanti mesi di coma finalmente il risveglio del 53enne giornalista Simone Daita che dunque è fuori pericolo vedete nella foto proprio nel tondo Simone Daita e poi in alto il luogo del pestaggio andiamo avanti siamo alla cronaca dell'Aquila dal centro alla ricerca della verità grandi rischi mobilitazione silenziosa il 19 flash mob davanti alla cassazione presentata in senato la proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta e poi operazione della finanza aveva cocaina in casa patteggia 20 mesi caserma campomizi appalti irregolari ci sono degli indagati nel mirino affidamenti di lavori senza le autorizzazioni e poi scoperte truffe con gli affitti concordati la forestale ha denunciato i due rappresentanti di una società milanese di gestione del risparmio e poi siamo alla pagina di Teramo Teramo lavoro raffica di assoluzioni non ci furono abuso falso e truffa per la società della provincia cadono le accuse per Catarra ed il sindaco di Bussi Lagatta Cretarola condannato a due anni solo per peculato le reazioni l'ex presidente dice ero tranquillo sapevo di non aver fatto nulla e poi un'importante cerimonia che ci sarà oggi a Teramo la laurea honoris causa l'ex premier del belgio di Rupo Elio di Rupo ex primo ministro del paese belga tra l'altro originario della nostra regione in particolare di San Valentino in Abruzzo citeriore in provincia di Pescara a tal proposito vi dico che questa cerimonia sarà trasmessa questa mattina in diretta dalla nostra emittente a partire dalle 10.30 dunque collegamento diretto con l'Università di Teramo per seguire la cerimonia della consegna della laurea honoris causa l'ex primo ministro del belgio Elio di Rupo andiamo avanti e siamo alla seconda pagina dedicata a Teramo doveroso il ricordo l'addio a Ernino D'Agostino politico mite ed onesto morto in ospedale l'ex presidente della provincia sindacalista la regia può far partire le immagini perché ieri è stata aperta la camera ardente in provincia a Teramo ecco le immagini vedete tra l'altro Renzo Di Sabatino il presidente della provincia di Teramo che era ad accogliere proprio il feretro d'Agostino Cordoglio delle istituzioni ma anche di tanta gente comune politico molto apprezzato anche per le sue qualità umane la camera ardente nell'aula consigliare di via Mililli domani si terranno i funerali tanta gente già ieri ha visitato la camera ardente proprio in provincia a Teramo scomparso a soli 55 anni Ernino D'Agostino come vedete già tanti cittadini anche semplici cittadini si sono recati presso il palazzo della provincia di Mililli per rendere e tributare l'ultimo saluto a Ernino D'Agostino e noi andiamo ad ascoltare il ricordo dell'attuale presidente Renzo Di Sabatino proprio su D'Agostino Il suo ricordo di Ernino D'Agostino? Una persona di grandi qualità una persona seria e tra tutte le qualità ne voglio ricordare una era una persona di grande dignità E cosa lascia Teramo? L'esempio di un politico bravo è l'esempio di un politico onesto l'esempio di un politico che ha ricoperto ruoli nelle istituzioni e quando è uscito dalle istituzioni ne è uscito più povero di come ci era entrato Questo è il commosso ricordo di Renzo Di Sabatino su Ernino D'Agostino Noi siamo già alle pagine del messaggero la cronaca d'Abruzzo la prima pagina con i titoli principali Santa Croce ai domiciliari Colella Vezzano evasione da 20 milioni di euro Maxi sequestro al titolare dell'azienda che imbottiglia acqua il GIP debiti con il fisco dal 2003 ora sta svuotando il patrimonio in bilico a canistro 75 dipendenti poi scandalo H un dissesto da 120 milioni chiuse le indagini su Di Cristoforo e i vertici dell'azienda per bancarotta e truffa e poi questa foto che arriva da Penne una provocazione su Facebook contro i ladri posta la foto di un fucile e poi calcio serie D Chieti ad Ortona Dio Angelini le pessime condizioni del terreno di gioco hanno indotto il presidente Pomponi a fare migrare la squadra che la prossima gara a Casalinga il derby con Giulianova giocherà non al Guido Angelini ma al Comunale di Ortona seconda pagina da Bruzzo del Messaggero evasione da 20 milioni ai domiciliari Colella padrona della Santa Croce abbiamo visto anche il richiamo in prima e andiamo a vedere dunque le pagine provinciali l'Aquila, il Parlamento indaghi sul sisma la pezzopane prima firmataria della richiesta di un'inchiesta di un organismo bicamerale fatto di 20 tra senatori e deputati non ci si vuole certo sovrapporre alla magistratura dice ma stabilire le responsabilità politiche che ci sono e poi il caso Campomizzi caserma Campomizzi ecco i nomi dei 23 nuovi indagati truffe negli affitti concordati scattano sequestro e denunce e poi Tancredi parla Tancredi dice sono solo un capro espiatorio non ho dossier persone vicine all'amministrazione Cialente hanno anche goduto di tale vicinanza questo dice Tancredi nell'intervista rilasciata proprio al messaggero ancora l'Aquila morta la donna investita da un'auto pirata Antonietta Durastante di 62 anni falciata nei pressi del cimitero del paese e poi l'IDV attacco frontale all'amministrazione il ponte Belvedere piace il recupero decisione in una settimana e poi arrivano gli spazzaneve 2.0 i percorsi pubblicati preventivamente sul sito del comune e poi la vicenda dei precari del comune dell'Aquila Liris dice chiedete scusa ai precari e poi ancora cronaca dall'Aquila si è dimesso il presidente del centro turistico Gran Sasso e Veleni in questo articolo Avezzano Sulmona Zingaretti Moroso il CAM chiude l'acqua ai comuni laziali la regione confinante deve onorare il debito e dunque pagare il rifornimento garantito dall'Abruzzo CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano e poi andiamo a Sulmona Mense il comune dice tutto nel rispetto della legalità e poi la centrale SNAM la giunta regionale ribadisce il no sempre a Sulmona senteisti l'ASL accelera chiesti gli atti alla procura per andare fino in fondo siamo a Magliano dei Marsi l'attentato dall'ex carabiniere ora c'è un sospettato e poi ad Avezzano ruba 200 euro a un anziano condannato siamo a Pescara l'inchiesta sull'ACA così hanno spolpato l'ACA chiuse le indagini sui conti dell'azienda che gestisce l'acquedotto e poi commissioni e gettoni scontro in consiglio comunale a Pescara e poi un'abruzzese premia i grandi della terra Alfonso De Virgilis da vent'anni anima del Galileo a Firenze proseguiamo via Battisti la tregua tra residenti e gestori dei locali la nuova movida Pescarese vertice in comune per fare il punto sull'ordinanza contro gli eccessi della movida l'interesse comune per la riqualificazione del quartiere e poi il festival delle letterature oggi il via la rassegna con tanti personaggi importanti della cultura italiana ci sarà anche Walter Beltroni e poi fucile sul comodino contro i ladri buonanotte a chi va in giro a rubare nuova provocazione su Facebook dopo il cartello con la scritta in cui era appunto scritto scusate il gioco di parole spariamo a vista un cittadino di penne posta la foto di un beretta da caccia attenzione anche a Loreto per i continui raid nella zona Vestina e poi la cronaca giudiziaria vigile perseguitato ex sindaco rischia nove anni e poi l'inchiesta strada buia e segnaletica super perizia sull'incidente sulla morte dell'anziano travolto a Francavilla al mare la procura ipotizza responsabilità degli enti andiamo ancora avanti siamo alla pagina di Chieti del messaggero tassa rifiuti ingiunzioni e solleciti per oltre 5 milioni e mezzo nel mirino chi non ha pagato dal 2011 al 2014 sporcizia incuria parcheggi assenti la petizione dei residenti del quartiere Santa Maria ancora avanti consiglio comunale piazza Caraffa ok alla riqualificazione e poi la cronaca giudiziaria violenza sessuale sulla barista assolto il suo datore di lavoro siamo alla pagina di Lanciano Vastortona addio vasto il Frecciarossa solo a Termori la rabbia degli amministratori utenti operatori economici assurdo non ci sarà neppure la fermata del Frecciabianca viaggiano a due velocità le ambizioni delle tre città di confine in Molise si festeggia nel basso Chietino si mastica Amaro centrale di Treglio contro la riapertura un sit-in davanti al palazzo di giustizia a Lanciano e poi Vasto truffa gli esercenti arrestato un molisano ad Ortona infine piazza San Tommaso rimosse le sedute saranno distribuite lungo le vie del centro e di nuovo a Lanciano domani si terrà un importante workshop sul turismo religioso anche perché si avvicina il momento con il giubileo proclamato da Papa Francesco siamo a Teramo città vietata ai disabili chiediamo il commissario la protesta parte con una dimostrazione pratica per le vie e locali del centro storico il comune non si è dotato del piano per eliminare le barriere architettoniche ieri vi abbiamo mostrato nelle nostre edizioni del Tg6 proprio un servizio con la nostra Elisa Leuzzo è proprio l'intervista di Claudio Ferrante presidente dell'associazione carrozzine determinate Teramo lavoro cade la truffa peculato truffa e peculato due anni a Cretarola è stato assolto l'ex presidente della provincia di Teramo Walter Catarra e poi sanità la Asla assume 56 operatori e 15 tra medici e veterinari e poi truffa alle assicurazioni con falsi incidenti due teramani nei guai e poi la notizia che abbiamo visto anche dalle pagine del centro D'Agostino si è spento a 55 anni una vita nel sociale dal 2004 al 2009 è stato anche presidente della provincia di Teramo abbiamo visto il servizio con il commosso ricordo dell'attuale presidente della provincia di Teramo Renzo di Sabatino pagina di Giulianova Roseto Val Vibrata foto hard nel sito turistico del comune sindaco Mastro Mauro e l'assessore Guido Baldi hanno immediatamente sporto denuncia alla procura sarà compito dalla polizia postale accertare le responsabilità l'ideatore Bonamano dice non ho più a che fare con quell'account Silvi due giovani in manette per furto al supermarket ad Alba Adriatica l'elementare di Via d'Aosta nuova palestra in tempi rapidi e poi ancora Giulianova in boccatura Molo Nord i lavori inizieranno subito a Santomero scuola dell'infanzia concluso il restyling a Martinsicuro ambientalisti contro la Fonderia Veco infine Roseto degli Abruzzi la Ciancaione dice mi candido con due liste civiche si lavora già alle prossime amministrative nella cittadina del Terramano siamo alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine invece del quotidiano la città di Teramo la prima pagina con il ricordo ovviamente dell'ex presidente della provincia di Teramo Erdino d'Agostino scomparso a 55 anni un presidente per bene vedete il titolo a tutta pagina poi la foto di centro pagina le carrozzine determinate fanno il tour delle criticità a Teramo andiamo a vedere le pagine interne Abruzzo di Sesto pronti 55 milioni di investimenti ripresa lenta in Abruzzo un miliardo di salari bruciati dalla crisi e poi Santa Croce 9 milioni sottratti al fisco arrestato Camillo Colella provincia in lutto muore a 55 anni Erdino d'Agostino se ne va una persona per bene abbiamo ascoltato parlava proprio di persona per bene il presidente attuale della provincia Renzo d'Agostino destra e sinistra unite nel dolore per la scomparsa di un uomo esemplare vedete il ricordo anche a pagina 5 della città di Teramo di Erdino d'Agostino pagina 6 Teramo città fuori legge sulle barriere per i disabili ieri il tour di carrozzine determinate assieme ai giornalisti per vedere provare i disagi proprio nel centro cittadino Teramo lavoro condannato il manager Cretarola due anni per l'accusa di Petulato assolti invece l'ex presidente Walter Catarra ed il segretario Salvatore Lagatta andiamo ancora avanti scuola bus il comune chiede conto del maxi ribasso l'offerta della frate Arcangeli ribassata del 31,66% e la più vantaggiosa delle sette pervenute per il prossimo appalto e poi lavori pubblici 14 cantieri aperti per 12 milioni il sindaco mette la bandiera sulle opere proseguiamo raccolta puntuale 900 firme per il sì presentati i risultati della campagna lanciata dalle consigliere Cardelli e Marroni per modificare il servizio della Teramo Ambiente e la Team vince il premio Ecomondo per carta e cartone porto il sogno americano in via Delfico Marco D'Agostino racconta come sarà il locale di prossima apertura negli spazi dell'ex White Wolf e poi Polizia colpivano nei centri commerciali denunciati due truffatori per falsi incidenti stradali andiamo ancora avanti contributi alle imprese rosa della Camera di Commercio di Teramo sostegno a fondo perduto per le nuove imprese di giovani e donne costituite in provincia nel 2015 e poi gestione rifiuti diffidati tra i comuni teramani Alba Adriatica Bisenti e Campli nella lista di chi non ha ancora provveduto ad approvare la convenzione dell'Agir e poi Maccaferri Mariani e Melilla chiedono un confronto allo stabilimento di Castilenti ha comunicato la chiusura entro l'anno ancora avanti sorprese a raccogliere olive su terreni comunali Tortoreto i vigili sorprendono una squadra guidata dal padre del presidente del consiglio comunale Alba Adriatica PD la minoranza chiede riequilibrio nel direttivo Viviani Martinsicuro una città abbandonata dall'amministrazione Camaioni il partito democratico attacca sullo stato del verde pubblico sulla manutenzione di arrede e servizi Giulianova Mosciano giunta pronto il rimpasto di San Martino siamo a Giulianova il sindaco Mastro Mauro dice sto valutando la condotta dei vari delegati e poi immagini o sé sul portale turistico di Giulianova attacco dei pirati informatici e sempre a Giulianova Fabrizio Retco chiede le carte dell'assestamento di bilancio altro che depotenziamento dell'ospedale investire per creare due nuovi poli Monticelli consigliere regionale del PD incontro a Fagnano che lo ha rassicurato sulla permanenza dei reparti creare un nuovo polo di radiodiagnostica avanzata un centro di riabilitazione per i pazienti post-acusie siamo ad Atri e a Silvi Carabinieri sventono un'altra rapina lì per Simpli coppia di giovani scappa con alimentari e liquori presi in casa dalle forze dell'ordine poi la cultura serve un nuovo modello di welfare fondazione di comunità dell'Abruzzo Teramano Gianni Chiodi dice proponiamo di cambiare un paradigma culturale e poi tropico utopico tra luce e pietra la storia che non finisce siamo alle pagine dello sport Dorazio dà il voto meritiamo sei e mezzo il terzino ex Ancona non era facile uscire da una situazione difficile oggi test con la Beretti stiamo ovviamente parlando del Teramo Vivarini riproverà ancora il modulo 343 e poi in basso a Campobasso via Roberto Cappellacci che è stato esonerato siamo alle pagine dello sport anche del centro e del messaggero partiamo dal quotidiano il centro per andare a vedere le notizie che riguardano lo sport partiamo dal Pescara senza Mandragora e Verra il Pescara non ingrana l'assenza dei due baby centrocampisti si è fatta sentire nella sconfitta di Novara con loro in campo i biancazzurri non hanno mai perso Oddo pronto a rilanciarli e poi Memoucha insulte all'arbitro fermato per due gare ancora serie B da Versa Lanciano dobbiamo fare gruppo parla il tecnico dopo la sconfitta di Cesena serie B la saracinesca porta blindata Jacopucci imbattuto al 26 settembre il portiere pescarese tra i protagonisti della risalita in classifica della Virtus Entella non prende gol da 553 minuti e poi Lega Pro Carcalis la freccia della maceratese col mito di Marcello e poi in basso Chieti Giulianova si giocherà ad Ortona ne parlavamo anche per il richiamo che era in prima pagina del messaggero e poi Simoni la riscossa sieco va migliorata la battuta parliamo di pallabolo volley di serie a due il centrale ortonese dice la squadra è nuova certe difficoltà sono fisiologiche oggi test ad Ortona contro Aversa domenica arriverà la capolista Potenza Picena poi contro guerra verso il record di iscritti alla corsa di San Martino e siamo alle pagine dello sport del messaggero prima di chiudere la trappola del turnover parliamo sempre del Pescara troppi cambiamenti in una squadra che andava a mille così il Pescara ha incassato a Novara una sconfitta evitabile stupisce soprattutto la rinuncia ai giocatori più in forma del centrocampo e l'ingresso di altre punte a gara in corso il riferimento è proprio al match di Novara in cui mister Oddo ha lasciato in tribuna Ben Ali e Mandragola e poi giudice sportivo due giornate di squalifica Memushai che salterà le gare con Ternana e Como ma Como non avrebbe comunque giocato perché impegnato con la sua nazionale l'Albania parliamo del Lanciano da Versa a Lanciano serve più convinzione il tecnico Rosso Nero a Perugia potrebbe dover rinunciare ad aridità Casadei è pronto per sostituirlo e poi Coppa Italia l'Aquila fuori ai supplementari ieri gara per il Rosso Blu in terra Marchigiana supplementari fatali alla formazione Aquilana l'Aquila si è Lancona si è imposta con il risultato di 2 a 1 e poi parliamo del Teramo Vivarini prova le novità per domenica contro la Berretti collaudo per il 3-4-3 Dorazio cerca il gol e poi la notizia che riguarda il Chieti Chieti calcio basta il Chieti gioca ad Ortona l'ufficializzazione del patron nero verde Pomponi Angelini addio il terreno è impossibile disputeremo altrove il derby con il Giulianova e rottura tra club e comune vogliamo vincere il campionato non possiamo rischiare infortuni e dunque la gara con il Giulianova programma tra due settimane dovrebbe giocarsi a questo punto è quasi certo al comunale di Ortona ancora notizie di sport volley SIECO oggi test con Aversa aspettando Potenza Picena e poi basket Serie A2 a Roseto stagione finita per Izzo un infortunio per il giocatore Rosetano siamo giunti al termine alle 7.58 della nostra rassegna stampa del appuntamento quotidiano con Mattino prima di salutarci vi ricordo il prossimo appuntamento invece informativo quello con la prima edizione del TG6 alle ore 14 ma restate sulla nostra emittente perché come dicevamo prima dalle 10.30 ci sarà la diretta dalla sede dell'Università di Teramo per la celebrazione e la consegna della laurea honoris causa all'ex primo ministro del Belgio Elio di Rupo originario dell'Abruzzo ci sarà questa importante cerimonia dunque che potrete seguire in diretta dalle 10.30 dunque più tardi sulla nostra emittente è tutto grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata alla prossimo avrò alla prossima Grazie a tutti.